Ecco la partenza in Corsica, qui vediamo il Puccio che si appropinqua a caricare gli ultimi suppellettili, condizioni meteo abbastanza avverse, non si vedeva la neve appisa penso dall'85. Speriamo di trovare delle condizioni meteo, un ombrello da istrici e con questa situazione meteorologica vi salutiamo, ci vediamo, si spera, nella bella isola. Grazie e arrivederci dopo a sto ricorso. La situazione è che a Livorno ha fatto più neve che a Pisa, stiamo guidando senza catene. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Furono presi e bastonati i pomerini Ma te Francesco parlò ebbene predicò Che il gran sultano ascoltò e molto lo ammirò Lo liberò dalle catene Così Francesco partì per Babilonia a predicar Legatura, microgirella, aggancio, guaina termorestringente, girella Diametro del trave, in questi casi specialmente su fondali dove andiamo a pescare Dove abbiamo sempre 7-8 metri d'acqua a tiro di canna Io non scenderei mai oltre 1,040 Come in questo caso Del buon nylon Perché serve di ottima qualità Poi andiamo a realizzare i nostri terminali Che andremo a congiungere allo snodo Andiamo a interpellare un amo importante Indubbiamente Un buon Bic dell'Iruca L'amo che buca Eccolo qui Paletta torta Prendiamo Inseriamo testa a testa Andiamo a creare La famosa brillatura Che non si sa mai dall'altro capo Della corda Chi è che potrebbe interessarsi La nostra esca Lo fermiamo qui Sul punto di chiusura dell'asola Andiamo a serrare con Un semplice nodo Eccolo Eccolo Quando l'uso li trabocca Visto che ci hanno detto in tanti Ma voi andate a pescare Fate i briari Fate vedere solo che bevete il vino No Ecco Stasera ci risaltiamo qui Abbiamo dei muscaldini E saranno portati per innescare Qualcuno si sono serbati da innescare E quell'altro si mangia Il paghetto Ha la mormola e l'occhiata In bianco Con qualche dadino di pomodoro E poi facciamo I muscaldini Con i piselli E poi Finite mangiare qui E poi È avanzato anche qualche bibida a palamito Se lo vogliamo degustare a carpaccio E dopo una preparazione oculata Organizzativa Intrigante Suggestiva E anche un po' Primitiva Visto che Ci abbiamo anche il muscaldino Affogato nel primitivo di Manduria Cos'era il primitivo di Manduria? Non è che sarà Propriamente mosso Lo definirei più Un mare Formato Una condizione di mare formato Inverosimilmente Si può tentare La cattura Della boga Con la pesca a striscio Mediante utilizzo Di bombarde Da 8 grammi Non è che è un'altra E' un'altra cosa Sperto che è un'altra cosa E' un'altra cosa E' un'altra cosa E' un'altra cosa Siamo arrivati in questa località, località di cui non riveleremo il nome, ma daremo un indizio significativo. Gli abitanti di questa città, di questa località, sono i più felici dell'isola. Gli abitanti di questa città, di questa città, di questa città, di questa città. Gli abitanti di questa città, di questa città, di questa città. Gli abitanti di questa città, di questa città, di questa città. Gli abitanti di questa città, di questa città, di questa città. Stasera finalmente riusciamo a avere una situazione più malleabile. Ci soddisfa, il mare è ammosso parecchio in questi giorni, c'è stato parecchio vento. Eventi atmosferici nefasti hanno condizionato un po' l'azione di pesca. però dai, vediamo cosa ci porterà il mare stasera in dono. Porzica Nustrale. Ecco, ecco, sta per lanciare la melone, il palo, una pesca di ricerca. Abbiamo messo un amolo il 4-0, abbiamo mescato un divino a palamito che sembrava un cazzo di un negro. E poi, niente, non c'è una piramide di 250 grammi, perché anche se sembra poco mossa, il mare di sotto c'è una bella correnta. Non c'è un po' l'amore, non c'è un po' l'amore. E poi, con l'amore, non c'è un po' l'amore. Quindi, si è un po' l'amore che è molto molto meno. Non c'è la bambina, non c'è stato parecchio. Allora, non c'è una cosa più grande. Si è un po' l'amore, non c'è un po' l'amore. ottimo ottimo mi sembra che ci siamo un bacchetto un banchetto un ozio quasi con le ciullate regalate dalla signora mattei ineccepibile regalateci di essere buono ma resta agno e prendi un ragno la sposa di oaccio mineo alla guerra davi il mondo curaccio e salva la mia terra e ora una memmo di sanazza odiosa di fora punterremo con l'arma da curiosa domani poterò l'arbuci di pasquale serrano avutò il lorco cugnale momento di pazzia momento di pazzia totale qui a sisco piove copiosamente noi imperteriti imperteriti in perteriti qui qui nel presepio ci siamo accampati nel presepio io faccio il bambinello io faccio ci siamo segregati in macchina l'acqua incessante il diluvio e anche in questo caso non manca mai un brindisi un segnale ittico possiamo senz'altro dire senza mezzi termini trattarsi di un pesce di grossa taglia è il nostro target il big fish nessuno ci ferma la grandine no la neve no gli acquazzoni no niente ci ha fermato e neanche il vino mare stagno e pesca un ragno anche se piove in maniera copiosa il puccio con il fuoco greco tenta di sollazzarci mediante uno starlight che lo vediamo laggiù utilizzato come miccia d'innesco andiamo a vedere le canne stiamo pescando grossi finali non troppo lunghi perché qui davanti abbiamo un fondale abbastanza roccioso e quindi stiamo facendo una sorta di rock fishing finali non troppo lunghi ovviamente montature spesse coriacee inneschi generosi mirando alla cattura di pesci d'italia a dopo e montagna canarese ci hanno alzato l'usina 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 anche questa asperigenza di corsica signore è morto bandito si chiude così e con questo vi salutiamo e ci vediamo alla prossima avventura città lettera città maiò a rite fiera città dei giocchi